Nell'edizione del Clean House di quest'anno, Siniat e Promat si presentano per la prima volta assieme sotto un unico grande marchio. Le novità di quest'anno che presentiamo come Siniat sono relative alla sicurezza degli edifici con i sistemi antisfondellamento certificati con un plenum massimo di 50 cm e carico impattante massimo di 60 km2 o statico di 120 km2. Presentiamo inoltre delle pareti certificate antisismiche con un sistema brevettato innovativo che grazie a un accessorio definito fusibile consente di mantenere la parete con il minimo danneggiamento o un'assenza completa di danneggiamento anche per terremoti di grandissima entità.